Ciao a tutti, ciao a tutte, è proprio quello di Youtube. Allora, finalmente sono riuscita a posizionare la videocamera, finalmente! E vi farò vedere adesso alcuni miei vestiti. Così, da farvi vedere che siete scusate, ma sono in tuta da casa, quindi appunto anche perché fa caldissimo oggi. Allora, questa qua è una maglia stupenda, che mi hanno regalato i miei. Poi, forse l'hanno detto fa, all'incirca. E non sto vedendo questa, credo, da tali quelli. Credo, però devo chiedere perché. Perché appunto, non mi ricordo, è qua, qua sotto, come vedete. Cioè, è proprio fatta, è molto estiva questa. È aperta qua, e come vedete, qua c'è il pizzo. Quindi, a me piace molto il pizzo. E rimane molto, molto leggera sulla pelle. Quindi mi piace molto. E questa è lina. Poi. Poi, dunque. Questi, che li ho presi da pochissimo. Sono di H&M. Gli ho pagati 15. Questi qua, sono dei leggings, come vedete. E, faccio vedere bene. Qua, al fondo, hanno queste cose qua in pizzo, come vedete. E poi, qua, al fondo, hanno questi bottoncini. Che sono molto, molto belli e fini. Quindi, diciamo. Poi, questo qua, che è il vestito mio preferito. Per adesso. E, ok. Questo l'ho preso in centro Torino. C'è un negozio dove vende tutti i vestitini. Tutti molto carini. Questo qua è molto collato. Vedete? Qua è praticamente aperto. Infatti, io quando lo metto di solito, ho tutto l'alchina di fuori. E questo qua è bellissimo perché, appunto, è leggero. C'ho l'alchina di fuori. E per questo tempo va benissimo. Diciamo. Poi. Poi, poi, poi. Ah. Questi qua, che sono sempre dei leggings, come vedete. E questi qua sono blu. Non so se si vede. Ok. Sono blu con queste roselline qua, che vedete. E sono stupendi. Io li adoro. Sono abbastanza... Questi, appunto, sono molto... Così, cioè... Molto... Molto pesanti. Cioè, vanno bene d'estate. Non... Non di... Cioè... Vanno bene d'inverno, non d'estate. E poi, infine, ho questo toppino qua. Che è tutto brillante in acqua, diciamo. Con tutta questa... Questa fantasia qua. Questa qua l'ho preso da H&M. L'ho pagato 5. 5 euro questo toppino. E... Altrifose. Poi vi farò vedere il mio armadio. E niente. Un bacio. Ciao. Ciao.